Si rialza il sipario sul San Paolo dove a partire dalle 20.45 Napoli e Palermo si affronteranno nel match valido per la quarta giornata di campionato. Dopo due sconfitte di fila contro Chievo e Udinese, gli azzurri hanno più che mai l'obbligo di fare bottino pieno per scongiurare una vera e propria crisi con drastiche conseguenze su un ambiente in cui il malcontento è andato crescendo di giorno in giorno da quando i partenopei sono usciti dalla Champions League. Ieri in conferenza stampa è comunque apparso sereno Benitez. Il tecnico ha assicurato che la squadra sta bene e che presto raggiungerà il top e potrà lottare per ambiziosi traguardi, ma già da stasera l'allenatore spagnolo si aspetta un Napoli diverso da quello visto nelle ultime apparizioni, più concreto in fase offensiva e più concentrato in fase difensiva, soprattutto sulle palle inattive. Su questo ha continuato a far lavorare i suoi uomini a Castelvolturno fino a 24 ore prima della gara Benitez, che contro il rosa nero dovrebbe ricorrere di nuovo al Tarnover e schierare una formazione diversa da quella scesa in campo al Friuli domenica, con Enrique al posto di Maggio e Zuniga al posto di Britos in difesa, Hiller a centrocampo e Caglie con Amsic e Mertens dal primo minuto dietro all'unica punta che sarà Iguain. Scontata la presenza del Pipita tra i più arrabbiati per il deludente avvio di stagione, così come scontata a salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, sembra la presenza di Rafael Traipali di Albiolo e Coulibaly al centro della difesa e di Gargano in mediana. Quel che è certo invece è che non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al San Paolo, dove sono attesi non più di 20.000 spettatori.